GF VIP 2, matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerbac La data già annunciata in tv? Il grande fratello VIP 2 ha consacrato la coppia formata da Daniele Bossari e Filippa Lagerbac ma la data del loro matrimonio potrebbe essere stata annunciata a mattino 5. . 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